La provincia di Forlì-Cesena organizza Provincia Aperta, un open day, un'iniziativa per dialogare con cittadini, imprese ed enti locali e far conoscere in modo creativo le numerose attività dell'ente a favore della comunità. Qual è il significato di questa iniziativa in un momento in cui si ipotizza l'abolizione delle province? Non è ovviamente una provocazione, il riordine istituzionale non tocca agli enti locali, tocca allo Stato e sarà loro che dovranno decidere quali sono gli organismi che ancora dovranno esserci nel sistema istituzionale e nazionale. Noi abbiamo voluto fare questo open day per alcune cose, innanzitutto per un motivo di trasparenza, vogliamo dire alla gente le tante cose che facciamo, spesso capita che chi viene in provincia perché ha un problema, il suo problema, non sa le tante altre cose che in provincia vengono fatte. Non è più come una volta che la provincia non ha un rapporto diretto con i cittadini perché le tante deleghe che sono state trasferite hanno messo in condizione l'ente provincia di dover trattare tante cose, del centro per l'impiego, quindi chi non ha il lavoro, ha l'ambiente piuttosto che la formazione professionale, la caccia, la scuola e tanti altri argomenti. Quindi ormai la provincia ha quotidianamente dei contatti importanti con il cittadino e quindi è un ente che bisogna farlo conoscere, ripeto, comunque fin quando c'è ha delle funzioni, delle deleghe, delle competenze, i cittadini devono sapere quali sono, che cosa fanno.